buonasera a tutti benvenuti a questo incontro di più europa lauria mh ancora una volta sul tema della invasione russa in ucraina questa volta cerchiamo di affrontarlo con un ospite che c'è particolarmente caro che pasquale annichino non ve lo presento perché è stato già più volte nostro ospite e si presenterà meglio da solo eventualmente ma la prospettiva che vogliamo che vogliamo affrontare sulla quale vogliamo insomma dedicare qualche qualche minuto della vostra attenzione e quello sulla sugli aspetti religiosi su quella che è la teologia diciamo che attraversa la russia putiniana di questi anni e vogliamo chiedere a pasquale appunto questo se come questa teologia appunto abbia influito anche in questo conflitto faccio una brevissima premessa solo per come dire rompere rompere un po il ghiaccio e chiedo poi a pasquale perché insomma io veramente ho voglia di approfondirlo con lui c'è tutto quello che è il tema del neo eurasismo e volevo capire se anche questo cioè questo vero e proprio scontro di civiltà tra la civiltà appunto eurasiatica russa e quella liberale atlantica che vede la prima quella appunto russa come una civiltà con valori tradizionali radicati nella chiesa ottobossa nei suoi insegnamenti religiosi davvero un fronte così compatto un fronte così determinato contro quella che invece è la nostra più come dire comoda se vogliamo e consolidata realtà occidentale all'interno di questo o a fianco a questo se non fossero legati ma ce lo spiegherà meglio pasquale io ho letto con molto interesse i tre articoli insomma uno come dire consecutivo all'altro e di approfondimento che ha fatto eh che ha scritto pasquale su su domani giornale eh su eh sul patriarca cirillo eh sulla sulle sue esternazioni dichiarazioni eh sul tema della guerra eh in ucraina eh sui rapporti tra anche tra diritto eh e ehm e religione eh c'era un articolo molto interessante eh sul sul consiglio d'Europa e quindi eh da cui la Russia è uscita proprio in questi giorni eh e più in generale insomma mi interessano appunto per ora partire da da questi aspetti qui eh legati diciamo ai fenomeni religiosi e a come si intersecano eh sia nel nel discorso ripeto più prettamente d'attualità legato alla guerra ma più eh ampiamente eh come dire culturale pasquale è un esperto di di queste di queste materie non solo da un punto di vista giuridico appunto ma anche da un punto di vista proprio culturale e politico e poi l'ultima cosa che mi viene in mente prima che mi sfugge mi 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 perdo eh anche i rapporti tra questa teologia russa e gli Stati Uniti d'America che non solo solo di contrapposizione ma sono anche permeati da una serie di di punti di incontro eh e e di sviluppi come dire forieri dal mio punto di vista di cose abbastanza pericolose. Lascio la parola a Nicola per un saluto e poi Pasquale veramente ti chiedo uno sforzo eh in più per noi divulgativo grazie. Buonasera a tutti e ben ritrovati alla nuova diretta di Pioropa Lauria. Saluto e ringrazio subito il nostro ospite il professore Pasquale Annicchino che ha deciso di raccontarci queste queste eh problematiche queste vicende che stanno attanagliando oggi il popolo ucraino in una visione diversa già come accennava precedentemente Italo in una visione teologica diciamo così io gli voglio lasciare subito la parola a Pasquale perché sono troppo curioso di ascoltarlo poiché è un argomento molto intrigante. Quindi lascio subito la la parola. Grazie. Allora consentitemi innanzitutto di ringraziarvi per l'invito eh se potete confermare che mi sentite. Italo puoi confermare? Sì tutto ok. Sì sì ti sentiamo. Benissimo allora eh reitero il ringraziamento eh sempre un piacere parlare con gli amici di Lauria eh spero potremo farlo presto di persona nuovamente invece di eh irrompere nelle case della gente all'ora del telegiornale quando avrebbero meglio di meglio da fare magari stare a cena con la famiglia che stare ad ascoltare noi ma noi facciamo questo insomma incontro anche perché ne resti traccia e poi magari chi vuole se lo recupera per fare riposino dopo pranzo chiamiamo così si mette sul divano e ascolta quello che noi ci diciamo però eh il tema mi sento di dire è particolarmente attuale ormai basta accendere insomma la televisione e ci rendiamo conto di eh quello che ci circonda. È particolarmente attuale eh il tema che Italo ha introdotto sul quale io eh ho fatto questi tre articoli di approfondimento nell'ultima settimana sostanzialmente domani data la mia nota cultura aziendalista lo annuncio c'è il numero speciale dell'inserto eh geopolitico del quotidiano di uno dei due quotidiani con cui io collaboro perché io collaboro sia con domani che con il foglio eh domani una volta al mese fa un inserto geopolitico che si chiama scenari che cura Dario Fabri che probabilmente molti di voi a questo punto conosceranno come un volto noto perché ve lo ritrovate tutti i pomeriggi ininterrottamente dalle cinque alle otto con Mentana e quindi Dario che per anni ha lavorato all'IMES alla rivista di geopolitica eh che magari a cui magari qualcuno di voi ha abbonato eh eh cura questo inserto e nell'articolo che troverete domani eh nell'inserto di domani ci sarà anche un mio articolo su proprio su queste questioni qui eh che riguarda il titolo sarà qualcosa il titolo come come voi sapete non lo sceglie chi scrive ma lo sceglie la redazione sulle guerre ortodosse allora io comincierei da qui per fare piccoli passaggi per capire che cosa succede guerre ortodosse perché perché da un punto di vista religioso e da un approccio che noi possiamo dare alla religione perché il significato di religione può essere mutante e cangiante a seconda degli aspetti che noi vogliamo toccare perché dovremo intenderci su cosa è religione partiamo dal suo significato classico canonico come sappiamo come è noto eh sia in Russia che in Ucraina la chiesa maggioritaria è la chiesa ortodossa ora già su questo non è semplice capire cosa accade perché per anni i fedeli ucraini di religione ortodossa sono stati diciamola così con una iper semplificazione e in modo semplice ci perdoneranno gli storici in ascolto immagino già Cassino saltare sulla sedia eccetera ma avremo poi modo di eh come dire ridurre la semplicità e di approfondire nell'articolo di domani la trovate un po' più complessa non entro qui nel dettaglio storico ma faccio solo uno zoom sulla realtà di ora c'era una peculiarità cioè che i fedeli di religione ortodossa in Ucraina per anni sono stati sotto il patriarcato di Mosca quindi la religione ortodossa ucraina dipendeva da Mosca è quella che i eh gli studiosi non li chiameremo canonisti potremmo dire di diritto delle religioni chiamavano la questione della giurisdizione ecclesiastica cioè i fedeli cristiani ortodossi di Kiev dipendevano dal patriarcato di Mosca questo già in passato ci fu un tentativo di separare la chiesa ucraina già nel 1919 poi con i liberali dell'unione sovietica questo tentativo fu represso perché sappiamo bene quello che è successo insomma sia rispetto all'Ucraina con tutti i milioni di morti che i comunisti hanno causato in Ucraina c'è un bellissimo libro di Anna afferbiamo su questo e poi con ovviamente tutta la repressione rispetto a qualsiasi cosa fosse manifestazione religiosa in un regime di ateismo di stato ehm non sto qui ovviamente ad elencare i numerosi preti incarcerati mandati a morire in Siberia e tutto il resto che immagino eh noi conosciamo benissimo e sottolineo non condividiamo quindi questo è eh la linea divisiva importante cioè c'è questa cosa paradossale di fedeli di una chiesa ortodossa di Kiev sottoposti al metropolita di Kiev che però doveva rispondere al patriarca di Mosca nel 2018 così facciamo subito lo zoom sull'attualità succede una cosa molto importante nel 2019 si notava eh presidente dell'Ucraina era il signor Poroshenko qualcuno di voi magari ne ha sentito parlare in questi giorni si è approfondito un po' Poroshenko che aveva fatto Poroshenko che era l'avversario di Zelensky che a questo punto conosciamo tutti che è l'attuale presidente dell'Ucraina Poroshenko aveva una piattaforma diciamo molto nazionalista perno di questo approccio molto nazionalista era la questione dell'identità religiosa del popolo ucraino Poroshenko operanio ha detto è impossibile che la nostra chiesa debba rispondere ai diktat di Mosca poi qui potremmo aprire una immensa parentesi magari lo faremo dopo sul ruolo politico del patriarca di Mosca che immagino alcuni di voi con alcune esternazioni recenti abbiano avuto modo di approfondire Poroshenko ingaggia una battaglia fortissima coinvolgendo la chiesa ucraina e tirando dietro la chiesa ucraina riesce faccio ancora una iper semplificazione a far sì che venga garantita dal patriarcato ecumenico di Costantinopoli che è il patriarcato che mette così diciamo insieme tutta l'ortodossia mondiale viene dato quello che tecnicamente si chiama il tomos sull'autocefalia non utilizzerò più queste parole complesse diciamo che viene garantita l'indipendenza alla chiesa di Kiev che a quel punto dal 6 gennaio 2019 non deve più rispondere a Mosca ma viene creata una chiesa autonoma la chiesa ucraina si divide anche in quel caso con una parte che resta autonoma e un'altra parte che resta ancora sotto mosca quindi già nel 2019 ma anche tornando indietro a tutte le manifestazioni del Maidan e del post Maidan il conflitto era latente fra Russia ed Ucraina non è che nasce tre settimane fa perché un pazzo si sveglia e comincia a tirar bombe c'era un conflitto politico e culturale già latente ed in essere che poi è defragrato ad un certo punto diciamola così quindi questa questione sull'identità nazionale costituzionale chiamiamola come vogliamo è pesantissima perché quando addirittura c'è un impegno in prima persona del presidente per far sì che si crei quello che è un vero e proprio scisma diciamolo così per chiunque di noi abbia studiato la storia sa che gli scismi non hanno solo implicazioni teologiche ma hanno profonde e rilevantissime implicazioni politiche che piaccia o meno nella vicenda Ucraina c'è questa cosa che io ritengo sia molto interessante da un punto di vista teorico noi siamo abituati a ragionare nel nostro approccio mentale su la religione che cattura il potere politico e lo influenza no? Questi sono i classici dibattiti. Lì c'è un po' un ribaltamento dei ruoli col potere politico che cattura la religione addirittura fa pressioni perché si crea una divisione teologica per sfruttare quella religione in chiave nazionalista identitaria. È significativo che nonostante l'Ucraina sia un paese molto religioso alle elezioni voi sapete le elezioni come sono andate Zelensky che è un ebreo ultrasecolare stravince segnale che nella nel risultato elettorale questa variabile religiosa poi in realtà non ha pesato tantissimo e questa è un'altra cosa che a mio avviso io lo sottolineo con un passaggio un po sfumato domani manda in bestia Putin e manda in bestia chi crede nella nella seconda religione che noi possiamo definire la religione putiniana perché un ebreo ultralaico a capo di un paese su cui tu stai mandando le bombe di cui credi il peggio possibile è davvero in chiave di lettura apocalittica e quasi messianica o post messianica della realtà che è molto presente nella elite in una certa elite culturale russa molto vicina a Vladimir Putin è diciamolo in maniera molto lineare il segno del demonio Zelesky è per queste persone l'incarnazione fisica del demonio sulla terra detta in maniera molto lineare sono immagini e storie che in un mondo molto secolarizzato come il nostro ci dicono niente ma questi davvero credono al demonio sì questi credono al demonio e il demonio può far sì che vengono anche buttate delle bombe questo in chiave di ragionamento nucleare non è molto tranquillizzante o dire la verità però lo scenario che c'è nelle teste di queste persone è esattamente questo tant'è vero che io e un altro po' di persone come la professore Pasquale perdonami ci hai dato una serie di coordinate che sono molto 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 interessanti secondo te è azzardato fare un paragone con l'Europa del 5600 Europa occidentale intendo riforma contro riforma dove anche lì il potere politico cercava di come dire controllare quelle che erano le varie forme di scisma protestanti che si stavano come dire delineando all'orizzonte i principi tedeschi non è cioè non è azzardato ovviamente il contesto è totalmente diverso non fosse è ovvio però non fosse che nel 5600 non c'avevano la bomba nucleare e mentre qui no perché queste immagini di anticristo e di e di demoni mi richiamano alla mente ripeto da un punto di vista mio più come dire occidentale quelle quelle letture sull'appunto 5600 di riforma e contro riforma dove appunto luterani calvinisti e anche tantissime altre frange come dire scismatiche poi in effetti venivano anche controllate dal potere politico e ma non voglio soffermarmi su questo era questo per per dare a me stesso una coordinata come dire spazio temporale ti volevo chiedere e perciò che mi sono permesso di interromperti di farci un approfondimento in più allora a questo punto per capire noi meglio la concatenazione politica e religione a partire ovviamente anche qui ti chiedo di divulgare quindi di semplificare per un per noi eh a partire dall'unione sovietica qualcosa l'avevi già cominciato ad accennare ad arrivare agli anni putiniani quindi questo rapporto politica religione perché sono delle coordinate che ne abbiamo sentito parlare ma insomma dette da te e approfondite ci fanno insomma ci fa piacere approfondire ti ho interrotto però è importante per noi avere alcuni passaggi alcuni punti alcuni punti no no certo anzi tu interrompimi perché ormai io è una settimana che vado di default e quindi è giusto che sia perché nella scrittura e sia in diversi interventi l'altro giorno hanno fatto una conferenza all'università di siena dove mi hanno invitato e quindi un utente può essere logorroico no allora la questione allora spero che sia chiara a tutti a questo punto la divisione di identità culturale eh che la questione della divisione infrortodossa pone fra Russia ed Ucraina credo che sia questo il punto che possiamo portare a casa allora sulla questione sovietica e direi post sovietica allora da un punto di vista molto semplice come ho accennato prima sappiamo che l'unione sovietica era un regime che praticava l'ateismo militante di stato questo vuol dire che l'esercizio di confessioni di confessioni religiose e soprattutto della libertà religiosa di individui e di collettività era represso e se non peggio in in altri casi con la caduta dell'unione sovietica si crea un problema eh viene meno tutta l'ideologia sovietica che aveva retto quello stato superata la parentesi Yeltsin che aveva tentato un approccio all'occidente con diciamo così alterne fortune gli anni di Putin portano eh riportano centralità alla domanda di diciamola ancora una volta in modo semplice che cosa fare con l'apparato ideologico della federazione russa visto che non possiamo far risorgere l'ideologia sovietica l'intuizione degli dei circoli intellettuali vicino a Putin qual è? Utilizziamo l'identità ortodossa e della chiesa ortodossa russa per creare una nuova ideologia che sia funzionale alla Russia tant'è vero per darvi un esempio concreto Putin ha fatto un discorso credo stamattina eh dove ha detto di tutto e di più contro quelli che vanno via dalla Russia e vivono in occidente eccetera se voi ve l'andate a riguardare in un passaggio di questo discorso Putin dice ah perché lì potranno esercitare le loro preferenze sul genere in una sorta di discorso anti gender diciamola così il patriarca Kirill dice nel famoso intervento di qualche giorno fa che la guerra è sostanzialmente colpa degli omosessuali e questo anche l'avete sentito tutti no? Questo è tipico del discorso pubblico che c'è in Russia a soprattutto a partire dal 2008 in poi io mi segnerei questa data tant'è vero che quando io e alcuni tra cui la professoressa Cristina Stockel di Innsbruck se la cercate troverete numerosi i suoi lavori che spiegano questa cosa quando nel 2000 che cos'era 2009 2010 abbiamo cominciato a studiare questi fenomeni siamo stati più volte sia in Georgia sia in Moldavia ricordo un viaggio di studio di due settimane a Mosca le persone ci dicevano ma perché studiate questi matti perché i discorsi che loro facevano già all'epoca erano sostanzialmente questi e la nostra risposta era guardate che queste cose hanno implicazioni concrete pratiche che poi tra qualche anno vedremo e purtroppo così è stato devo dire purtroppo ovviamente perché le persone che poi sono nell'inner circle putiniano a queste cose hanno cominciato a crederci veramente e questo ha generato tutta una serie di teorie del complotto gli stessi fenomeni che abbiamo visto in dibattito puramente occidentali con fenomeni quale qua non ad esempio no? Che hanno poi avuto conseguenze molto concrete dal punto di vista dell'ordine pubblico questo è la diffusione di queste idee perché purtroppo il principio è sempre che le idee hanno delle conseguenze e le idee nefaste hanno delle conseguenze nefaste purtroppo hanno avuto delle conseguenze in in Russia ci sono stati le prime conseguenze ovviamente a livello di ordine pubblico interno con le incarcerazioni degli omosessuali il famoso caso delle pussi riots eccetera eccetera questo poi si ripercuote con la creazione delle teorie del complotto che ormai gravitano attorno per cui qualsiasi cosa è colpa degli Stati Uniti dell'Occidente il discorso di Kirill dell'altro giorno in cui utilizza il linguaggio della Yatollah Khomeini definendo l'Occidente il grande Satana perché abbiamo visto anche questo e quindi le idee hanno delle conseguenze Kirill è l'inner circle putiniano sa ovviamente che ormai in Occidente non gli crede più nessuno e quindi comincia a usare il linguaggio degli Ayatollah per rivolgersi ad un altro mondo sostanzialmente è questo quello che accade l'altra cosa che voglio sottolineare rispetto ai rapporti fra religione e sovietismo e post sovietismo la storia anche tantissimi dossier dei fascicoli che sono stati recuperati dall'ex KGB ci dicono di una vicinanza molto importante fra l'elite della chiesa ortodossa russa e i servizi di sicurezza russi addirittura due patriarchi incluso l'attuale Kirill soprattutto Alessio II l'ex patriarca ci sono numerose evidenze della loro diciamo correlazione con i servizi segreti di sicurezza russi quindi è davvero stato un instrumentum regni se vogliamo utilizzare questa categoria molto potente la chiesa ortodossa russa e anche soprattutto uno strumento di diplomazia parallela internazionale a vantaggio dell'unione sovietica o della federazione russa tutto questo discorso Cristina Stocco l'ha scritto tantissimo su questo il linguaggio sui cosiddetti valori tradizionali che abbiamo visto importare in occidente da numerosi attori che si sono ispirati al modello russo e tutto è stato creato all'interno prima della riflessione teologica della chiesa ortodossa russa ci sono dei documenti a partire dal 2008 in poi importato poi nella diplomazia delle federazioni russa e poi diffuso tramite tutta una serie di network e di attori all'estero non non è da nascondere il fatto che la vicinanza di numerosi partiti politici occidentali a a Putin se voi andate a ricostruire rapporti si basa proprio su questi temi qui e sui rapporti che si creano su questi temi qui ovviamente probabilmente io immagino che nei prossimi anni noi vedremo numerose evidenze viene fuori ma io ho scritto un articolo sul sul foglio dell'ottobre 2019 su un'inchiesta di report e salvini più ci sono altri articoli su google la fonte della fede russa più un ritratto di costantin malofeb quando ancora si parlava poco di costantin malofeb in italia costantin malofeb che è uno di questi grandi oligarchi ha investito numerose risorse su questi temi culturali qui e quindi era su questo mi porta come dire subito a farti un'ulteriore domanda ripeto sembra che svicoliamo fuori dal tema religione ma non 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 lo non lo facciamo perché i personaggi che hai citato adesso e gli articoli che hai citato e che ricordo di aver letto con piacere tempo fa in uno al tema del complottismo che pure hai evidenziato prima ti ripeto mi portano di nuovo a farti la domanda che avevo accennato all'inizio e cioè i rapporti tra questa teologia barra ideologia barra filosofia perché c'è questo personaggio dugin che abbiamo visto anche come dire in italia girare e o o viceversa ospitare in russia sia politici che dio filosofi mi pare una parola grossa non lo voglio neanche chiamare filosofo e comunque ripeto queste influenze le abbiamo viste sicuramente in europa occidentale in italia ma le abbiamo viste da quello che credo di aver capito anche negli stati uniti con anche qui con frange della destra anche religioso ultraconservatrice ecco ti vorrei chiedere anche qui un breve approfondimento perché credo che questo sia un tema che di cui poco si parla e che invece so che tu hai approfondito e hai come dire studiato in maniera molto più più puntuale e credo che sia anche per noi utile come dire per avere delle coordinate specifiche sicuramente innanzitutto per quanto riguarda l'ideologia rosso bruna in italia i rapporti con il 5 stelle con la lega ma non ti voglio chiedere cose specifiche mi interessa come dire soprattutto un tema di ampio respiro e poi soprattutto i collegamenti con gli stati uniti perché credo che anche quello sia sia un passaggio importante la domanda è vasta quindi ti concedo ampio termine perché veramente ci ci interessa capitolo questo argomento ma guardate come ogni movimento che è movimento politico che pensa in termini internazionalistici noi siamo abituati a pensare che pensano in chiave internazionalista solo i progressisti e mentre i nazionalisti e conservatori pensano solo in chiave nazionalistica iper provinciale di paese o altro in realtà è chiaro ci ha scritto un bellissimo libro clifford bob che è uno studioso americano che nel 2012 scrisse questo right wing la destra globale e la destra globale che cosa voleva dire voleva dire clifford bob che esiste un internazionale di destra soprattutto religiosa che lavora affinché alcuni temi diventino egemonici nel dibattito pubblico la cosa interessante è che la centrale delle egemonie della produzione di queste idee per molti anni è stata soprattutto la russia ma è stata solo la russia non per caso ma perché scientemente la leadership politica della federazione russa quindi putin tutto il suo circolo con l'appoggio e il contributo della chiesa ortodossa russa ha dato diciamo pieno alla produzione di queste idee qui questo che vuol dire che tutti quelli che si oppongono ad esempio al riconoscimento del matrimonio dello stesso sesso sono dei putiniani no io mi sentirei assolutamente di escluderlo questo non si possono tacciare tutte le persone che si oppongono al riconoscimento del matrimonio dello stesso sesso o che hanno posizioni conservatrici sulle posizioni morali di essere al soldo di vladimir putin perché questa è una semplificazione stupida che non fa non rende giustizia diciamo alla necessaria complessità che questi temi richiedono però si può dire che su questi temi vladimir putin e chi per lui ha investito molto capitale economico culturale sociale politico si può assolutamente dire putin si è fatto diciamo ha voluto per anni farsi rappresentare come il difensore di una civiltà cristiana forte e guerriera rispetto ad un occidente decadente questo è diciamo l'altra connotazione di religione che noi dobbiamo comprendere in questa visione un belta sean del mondo l'occidente il mondo decadente il mondo del gender è il mondo dove si riconosce il matrimonio omosessuale è il mondo flaccido non dei guerrieri ma di quelli che stanno la sera a guardare netflix sulla poltrona come noi è il mondo di vladimir putin è il mondo del dell'uomo forte della guerra della sicurezza della certezza e questa è la visione del mondo che è stata veicolata dalle centrali e dalle case matte di produzione di ideologia che assieme agli hacker condividevano gli spazi negli uffici diciamo finanziati dalle fsb e dalle centrali russe ora su questo tu dici ma che cosa c'entrano gli americani con questa ideologia qui e ti rispondo con un esempio perché poi la vita non è mai e l'analisi delle cose non procede mai per necessaria coerenza logica ma viviamo anche di profonde contraddizioni io ero proprio con christina stockel in georgia nel 2000 erano a tbilisi nel 2018 se non sbaglio a tbilisi si svolgeva un convegno del congresso mondiale delle famiglie andato a guardare la stessa organizzazione che organizzato il family day a verona su cui ci sono state tante polemiche qualche anno fa noi eravamo nel palco e innanzitutto questo evento si apre con una prolusione del patriarca georgiano dagli spazi il patriarca georgiano che poi capisco dopo non vuole andare a parlare dal palco perché sul palco i russi avevano messo le bandiere russe e quelli della destra religiosa americana hanno messo la bandiera degli stati uniti quindi il patriarca georgiano che condivideva i temi interviene ma non vuole condividere il palco con questi ora vedere a tbilisi dove ci sono le strade e le statue dedicate a george bush che aveva difeso la georgia contro i russi condividere lo stesso palco esponenti della politica russa della chiesa ortodossa russa esponenti americani a me ha mandato un po il tilt diciamo così il cervello eppure c'era un'agenda condivisa su questi temi fra la destra religiosa o non fra tutta la destra ma fa parte della destra religiosa americana e queste parti della chiesa ortodosso russa e della leadership politica vicina a vladimir putin quindi c'è diciamo così una internazionale del conservatorismo morale chiamiamola così che spesso e volentieri è utilizzata per perseguire scopi politici che rispetto al dibattito sulle questioni valoriali e di sostanza diciamo c'entrano ben poco è uno scambiarsi la veste per utilizzare un'espressione di un titolo di un libro di gustavo zagrebelschi che non sbaglio che genera tutta una serie di contraddizioni paradossali ma nella nostra realtà viviamo anche di queste incoerenze molto profonde ovviamente italo su sull'articolo o per chiunque volesse perché disponibile online se va su google e scrive la fonte della fede russa che è un articolo che io nel 2019 ho pubblicato per il foglio trova un po illustrate queste cose c'è tutta la storia di maria butina che era questa gente dei servizi sicurezza russi infiltrata negli Stati Uniti nella National Rape of Association che è l'associazione che si occupa di armi e che negli Stati Uniti come io spiego si infiltrava in questi meeting religiosi per approcciare politici e poi portarli in Russia lei è stata condannata negli Stati Uniti è stata rispedita in Russia e in questi giorni il campeggia su Twitter incitando alla guerra contro l'Ucraina bene Pasquale intanto eh come dire ci hai fatto una panoramica molto ampia prima di passare la parola a Nicola che sta fremendo lo vedo si vede proprio eh che freme ti volevo sottoporre un quesito una considerazione del nostro comune amico giornalista Sergio Ragone lo faccio passare a schermo e credo che ti stia facendo la domanda ovviamente a te si sto leggendo diventa più semplice non vi è dubbio dice dice Sergio Ragone che la Russia abbia recuperato un ruolo nello scacchiere internazionale occupato principalmente dallo scontro tra Cina e America nonostante la propaganda putiniana ramificata a livello globale che si è palesata anche qui da noi forse questa escalation di violenza e il ritorno sulla scena della Russia è dettata anche dal fallimento della propaganda russa cioè se capisco bene eh proprio perché la propaganda russa stava fallendo dice Sergio Ragone è stato necessario come dire questa escalation oppure la possiamo interpretare in un altro modo Pasquale dici dici la io sul primo sul primo dei tre articoli che sono usciti dopo il primo discorso di Kirill ho riportato quanto ha scritto Oliverois eh eh quando ha dichiarato Oliverois che è un eh filosofo francese eh con cui ho lavorato per anni all'istituto universitario europeo eh alle novelle observataires è una considerazione che io condivido cioè Oliverois dice la Russia aveva acquisito una centralità eh nel soft power e nelle politiche di influenza non militari che era assolutamente fuori scala rispetto al ruolo internazionale che questo paese poteva pretendere di avere non ci scordiamo una cosa perché sia chiara a tutti la Russia come ormai anche i servizi di sicurezza statunitensi hanno accertato ha influenzato eh non voglio dire deviato ma sicuramente pesantemente influenzato si può dire le elezioni degli Stati Uniti del duemilasedici quindi c'era una possibilità di influenzare le politiche di paesi. Forse era Brexit vero Pasquale? Ci sono chiare evidenze di un'influenza importante di queste politiche qui eh anche nella vicenda della Brexit c'è eh ci sono evidenze importanti dell'influenza russa in nelle politiche di numerosi paesi occidentali tra cui la Francia tra cui l'Italia eh anche nel caso spagnolo ci sono segnali di influenze importanti non devo spiegare qui perché la Russia gioca influenze importanti anche in un paese come la Germania visto che un ex segretario dell'SPD è sostanzialmente al soldo questo si può dire eh di Vladimir Putin. Ora Oliverois però che cosa dice? L'attacco in Ucraina fa assaltare tutto questo perché il soft power nel momento in cui tu ti rendi un'impresentabile internazionale salta totalmente e con te saltano anche tutti quelli che tu ti tiravi dietro perché voi lo avete viste le immagini di Salvini che ci sono sui social network in questi giorni? Salvini sembra il presidente di Sant'Egidio cioè qual è la narrazione che Salvini può più mandare in giro? Cioè Salvini si fa le foto con i rifugiati. Ora non devo spiegare qui che questo non è un film di Pantozzi ma è uno che fino all'altro giorno che diceva che avrebbe vissuto tranquillamente in Russia e che vivere a Mosca era meglio che vivere in qualsiasi altro paese occidentale. Quindi la mia lettura è molto simile rispetto a quella eh che ha fatto Oliverois. Mi sentirei condividere eh la la narrazione per cui l'attacco militare distrugge il soft power di Putin perché non c'è più spendibilità di quegli argomenti lì. E quindi e quindi torna appunto prepotente insomma il ruolo della Cina a questo punto che forse si è saputa muovere meglio in questa in questa vicenda pur con alcuni distingue insomma non ha preso proprio una posizione netta ma tutto sommato almeno non ha appoggiato in maniera esplicita la Russia. La mia impressione guardando alla Cina diciamo così impropriamente come istituzione perché io ho sempre noi ragioniamo sempre su su nell'ambito di coordinate spazio temporali no? C'è c'è un bellissimo intervento nella penultima incirca di Francesco dove fa questa distinzione e lui dice l'occupare il tempo è più importante che occupare lo spazio perché il tempo genera dei processi che poi a lungo periodo possono avere delle influenze molto più importanti che occupare lo spazio. Putin qui sceglie di occupare lo spazio mentre la mia sensazione è che la Cina essendo un impero millenario sceglie di occupare il tempo e quindi non vuole il risultato immediato ma mira al risultato di lungo periodo giustamente perché un Vladimir Putin e una Russia paria internazionale eh a chi dovrà rivolgere? Questo è anche un problema per noi occidentali eh perché ovviamente la nostra reazione emotiva qual è? Eh prendiamo a calcio nel sedere Putin e non vogliamo avere più niente a che fare con la Russia però attenzione a non liberare tutto quel campo rispetto ad un'acquisizione cinese eh di un paese che c'ha un arsenale nucleare e c'ha importanti risorse eh energetiche. Da questo punto di vista l'uscita del Consiglio d'Europa, della Russia è allarmante ed è un fallimento direi anche di noi occidentali che non siamo riusciti ad integrare quel paese nel sistema di valori e di libertà delle nostre democrazie. Quindi eh questo l'uscita della Russia dal Consiglio per noi forse. Perché è come quando tu c'hai un aereo in avaria e non sai dove andrà a cadere. Se poi l'aereo ti cade in testa il problema ce l'hai pure tu. In questo senso Pasquale la complessità eh che eh come dire che ci porti tu mi sento di condividerla. Non mi sento di condividere tanta altra complessità che gira sulle nostre nei nostri talk ultimamente. Eh passo la parola a Nicola se ti vuole fare qualche domanda, qualche richiesta più specifica. Prego Nicola. Guarda devo essere sincero, ha già risposto a tutte le domande che mi ero preparato. Comunque no, ti chiedevo un particolare attenzione su un passaggio. E voglio chiederti quindi è veritiero il fatto che ci sia ci sia e ci sia stato un legame tra KGP e due patriarchi sia Alessio II che Kirill? Hai già risposto in base. Sicuramente è veritiero e questa mi sembra l'affermazione più importante lo stretto legame che c'è stato negli anni tra servizi di sicurezza dell'Unione Sovietica e servizi di sicurezza nella federazione russa. Su Alessio II ci sono molte più evidenze che lui fosse addirittura un agente del KGP in quanto tale. Su Kirill ci sono sicuramente legami, evidenze dei suoi legami, non è ancora chiaro a che livello, ma ci sono sicuramente evidenze dei suoi legami con i servizi di sicurezza. Questo è chiaro. Scusate sto facendo qualche pasticcio con microfoni e telecamere. Pasquale credo che ci sarebbe sicuramente tantissimo ancora da dire però uscendo un po' fuori dal seminato ma l'avevo anticipato stamattina sul mio profilo Facebook. Ti volevo chiedere se avevi avuto modo di vederlo il provvedimento della Corte Internazionale di Giustizia che è uscito proprio ieri sulle accuse di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei crimini di genocidio in questo procedimento Ucraina verso Federazione Russa sulla questione proprio del Donbass. Perché perché lo cito e perché ritengo sia opportuno come dire approfondirla questa questione? Perché tecnicamente una delle ragioni accantonato il tema Nato, accerchiamento della Nato che è completamente sfornito di alcuna come dire documentazione scritta di accordi che si sarebbero tenuti nel novanta nel novantuno tra Gorbacioff e segretario eh di Stato americano dell'epoca e non dico che è una bufala ma perché non arrivo a dire questo ma comunque non c'è nessuna prova invece il tema del diciamo del genocidio in Donbass eh e quindi come causa scatenante formale di questa azione no? Come dire che Putin non chiama guerra ma chiama in ben altro modo eh pare che abbia avuto invece una smentita come dire abbastanza formale con questo provvedimento che digitavo prima. Volevo capire dal tuo punto di vista se avevi avuto modo di di leggerlo di vederlo questo provvedimento. Allora Italo ho visto ho visto che ho prego. L'ho stampato ma ce l'ho qui con me e mi sono promesso di leggerlo domattina. Eh detto questo io sono uno scettico del diritto pubblico internazionale cioè eh credo che eh il diritto pubblico internazionale abbia poco mordente rispetto alle questioni militari diciamola così. Eh c'è stata anche un'intervista molto importante della di Carla Dalfonte l'ex procuratore della corte penale internazionale ma io voglio vedere andarsi a prendere Putin e portarlo davanti alla corte penale cioè come si fa. È vero che la storia ci dice che poi con il tribunale penale dell'ex Jugoslavia ci siamo riusciti a fare dei processi per eh rimassare di Sebrenica e altro. Quindi in alcuni casi magari siamo riusciti a eh imbastire dei procedimenti penali eh con queste giurisdizioni. Il caso del Donbass non commento una cosa che non ho letto perché credo che lo vediamo tutti i giorni in tv e magari se è opportuno astenersi da commentare cose che non conosciamo però sicuramente ecco sulla questione genocidio dal punto di vista internazionale ci sono e ci attendono numerosi provvedimenti importanti che eh possono far chiare se il caso del Donbass è uno anche se lì ho letto che c'è stata la questione del giudice cinese che in realtà si è astenuto e non ha votato in minoranza quindi anche questo segnale diciamo ruolo di influenza. Il giudice cinese e il giudice russo si sono astenuti quindi su quindici ci sono due voti come dire che mi sembra. Però io ripeto se non l'hai letta se non l'hai letta non mi non ovviamente non è opportuno parlarne nel senso che io ho avuto modo di leggerla in inglese quindi con tutti i miei limiti del caso eh però c'ho dei passaggi interessanti perché insomma a un certo punto sembra che gli stessi difensori russi che hanno partecipato in parte diciamo al procedimento eh loro stessi a un certo punto sembrano quasi dire che vabbè un po' avevamo esagerato nel dire che c'era questa questa questo questo genocidio insomma del resto poi il provvedimento è chiaro che è un provvedimento che non troverà nessuna attuazione perché eh la Russia non non procederà in alcun modo al al fermate il fuoco quindi no no ma è interessante però dicevo è interessante il voto del giudice cinese perché la Cina ha un'accusa di genocidio pendente rispetto alla questione degli uiguri eh e quindi anche il posizionamento del giudice cinese è particolarmente rilevante mi sento di dire certo certo magari questo appunto sarà occasione poi per approfondirlo magari in un'altra occasione e in un altro e in un altro tempo ehm Pasquale ti volevo chiedere un'altra cosa invece se è in materia che tu eh come dire tratti e se è affine a questa a questa tematica qui perché tu prima ci hai parlato di nazionalismo ma di nazionalismo religioso eh la questione del battaglione Azov che pure ci viene sempre come dire ricordata dagli amici appunto diciamo più di di sinistra come dire sinistra diciamo eh ha a che fare anche qui con con aspetti religiosi il nazionalismo religioso di cui parlavamo prima eh centra oppure e e e di tutt'altra matrice no ma attenzione cioè non è che il nazionalismo religioso c'è solo in Russia cioè è evidente che il nazionalismo religioso c'è anche in Ucraina e e non è che quelli che sono in Ucraina sono tutti belli e bravi e quelli che sono in Russia sono tutti brutti sporchi e cattivi cioè io mi rendo conto che le nostre menti abbiamo difficoltà ad accettare la complessità della realtà e quindi siamo portati a dire ah da una parte ci sono i buoni dall'altra ci sono i cattivi ma questo non mi impedisce di dire che in questa vicenda qui c'è chi ha ragione e chi ha torto perché a un certo punto quando c'è uno che bombarda gli ospedali e bombarda le persone che si sono rifugiate eh in un teatro e per fortuna poi si sono riuscite a mettere sotto nei bunker e non ci sono rimasti sotto con tutto il battaglione adobe neonazisti che ci sono pure in Ucraina c'è una questione di scala di quello che tu devi salvare e quello insomma di di equazione che devi fare e quindi ti chiedevo proprio se quel tipo di nazionalismo eh del battaglione Azov fosse anche legato ad aspetti religiosi era questa la mia domanda no c'è allora io mi limito a dire che c'è sicuramente un nazionalismo religioso anche in Ucraina io ti ho citato il caso di Poroshenko prima quello che cos'è se non è nazionalismo religioso ora è evidente che tutta quella roba che gravita attorno al cosiddetto famigerato battaglione Atov è ancora più estrema rispetto a quella di Poroshenko che si manteneva nei canoni di eh una eh movimento diciamo così di destra eh molto conservatrice comunque istituzionalizzato nel caso del battaglione Atov mi sentirei dire che siamo oltre la possibile istituzionalizzazione ma siamo di fronte a della gente che lavora nell'illegalità per quelli che sono i canoni che noi siamo abituati a considerare i propri opportuni di una democrazia liberale il fatto che ci sia il battaglione Atov mi impedisce di dire che Vladimir Putin va affermato e che tutto quello che i russi stanno facendo deve eh deve definire no non mi impedisce di dirlo assolutamente non mi impedisce non mi impedisce avere una chiarezza morale su dove stanno i torti e le ragioni in questa vicenda assolutamente d'accordo con te era solo per me capire se c'era anche una matrice di quel tipo nella 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 è ovvio che eh vabbò ma non c'è eh davvero certe volte sembra inutile ribadirlo eh eh a fronte del battaglione Atov e quella percentuale che ci sarà appunto di neonazisti o chiamamelo come vogliamo nell'esercito russo c'è c'è quindici volte tanto insomma su su frange come dire estreme e quant'altro Pasquale sempre sul tema religione e penso questa è l'ultima domanda almeno da parte mia perché davvero si è stato molto esaustivo la richiesta di intervento di battaglioni ceceni e battaglioni siriani e battaglioni centrafricani a prescindere gli aspetti militari materia né mia e credo neanche tua ma come lo si concilia dal punto di vista proprio come dire religioso dal punto di vista eh come dire dei temi che abbiamo affrontato adesso beh allora questo è l'ennesima testimonianza di un paradosso di questa cosa qui che la nostra mente con un po' di esercizio deve provare a comprendere cioè Vladimir Putin che per anni si è autoerretto a difensore dei cristiani e della cristianità va in Cecenia prende dei guerrieri musulmani su cui ha lanciato le bombe nella guerra di Cecenia sottomettendoli e facendoli diventare suoi diciamo scherani li prende e li manda a massacrare i cristiani in Ucraina capite che questo non si concilia benissimo con il Vladimir Putin difensore dei cristiani e della cristianità questa cosa l'ha sottolineata molto bene Anna Appalbaum eh in un intervento qualche giorno fa ma eh è un'evidenza che davanti agli oltri di tutti perché le foto dei Ceceni in Ucraina eh le abbiamo viste tutte mi sentirei di dire che dov'è la coerenza rispetto a dire allora già che non c'è coerenza rispetto a questioni minime di moralità e di dignità nel buttare le bombe su uno che sta su un ospedale ma addirittura andrà a prendere i guerrieri musulmani metterli nel tuo esercito e utilizzare nella guerra cittadina per far scannare gli ucraini è davvero il non plusulta di eh qualsiasi possibile coerenza anche nell'ottica di una guerra santa no? Dici io voglio radunare tutti i cristiani per andare a ammazzare i musulmani ad esempio cioè qui non c'è neanche coerenza da coerenza guerra fondaia possibile. No no appunto era questo era questo che volevo volevo venisse volevo venisse evidenziato. Eh Nicola c'è una c'è una domanda di del nostro comune amico Enrico Cosentino gliela vuoi leggere tu a Pasquale? Sì. E poi ci avviamo alla conclusione? Sì che siamo già un'oretta. Allora se cadrà questa bandiera Federazione Russo Ortodosso sotto la quale si sono avvolti cosa succederà? E se la Russia resterà isolato quando si arriverà alla fine di tutta questa faccenda potrebbe accadere che ci sia la nascita di una nuova bandiera ancora? Magari come rivisitazione di quella rossa? Ma io bandiera lo interpreto come ideologia di Stato diciamo così. Do questa interpretazione qui al termine bandiera. La mia sensazione è che essendo l'ideologia, l'approccio culturale della Chiesa Ortodossa russa guidato essendo stato guidato in questi anni da un approccio molto distintivo delle confessioni cristiane che è il cristianesimo anti-internazionalista, così viene definito. È un cristianesimo molto nazionalista che non crede nelle istituzioni internazionali, crede che l'ONU sia l'incarnazione di Satana, crede che tutte le istituzioni multilaterali siano fatte per ingabbiare i paesi come la Russia in un sistema di valori che non gli è proprio. se noi se noi valutiamo anche la recente uscita di un'organizzazione internazionale quale il Consiglio Europa, la mia sensazione è che quello che resterà in piedi e la Russia si rifugierà ancora di più in una ideologia nazionalista e chiusa che servirà diciamo a cementare quelli che restano dentro e non provano a uscire. A questo aggiungiamoci anche alcune cose tecniche, quale la cosiddetta separazione dal World Wide Web che Putin sta perseguendo con la creazione di una rete totalmente interna sotto il suo controllo dei servizi di sicurezza che ovviamente serve esattamente a questo, a veicolare quello che i cittadini russi vedono e no. Da questo punto di vista la performance grandissima di ribellione della giornalista russa che noi abbiamo visto l'altro giorno è testimonianza di quanto poi, questo noi lo sappiamo bene, gli intenti censori non riescono mai a funzionare per bene perché si trovano sprazzi di libertà anche individuale, sono in grado di mettere in pericolo anche un sistema molto tirannico, molto censorio, è come un palloncino molto gonfio in cui un solo spillo può farlo saltare e quindi io credo che comunque gli spilli in Russia ce ne siano ancora diversi e quindi probabilmente assisteremo in quest'ottica molto nazionalista a ulteriori scossoni che la libertà individuale di persone che non mandano il cervello all'ammasso sarà in grado di portare lì. Pasquale, io davvero ti ringrazio che siamo riusciti a rimanere entro l'ora, ci sarebbero state altre cento domande almeno che ti avrei voluto fare e che ti avrei voluto fare anche Nicola, ma ci fermiamo qui perché la mole di questioni comunque sono tante. So che nonostante i tuoi numerosi impegni sia accademici che anche di divulgazione, radiofonici, televisivi e appunto accademici ancora, non ti impediranno di essere di nuovo con noi in un'altra occasione che decideremo su questo come su altri temi perché io ti ho letto con molto piacere sulla questione degli Uiguri, ciao, la mia pronuncia cade di nuovo, quindi sulla Cina e sono tematiche anche quelle molto interessanti, così molto interessanti sui tuoi approfondimenti legati anche alla privacy e ai diritti di libertà, insomma sono tante le questioni sulle quali si può andare a come dire ad approfondire con te, vedi ogni parola ne tira un'altra, quello sul web russo è sicuramente un aspetto molto interessante, quindi la censura sul web, ma questa è una tematica che vedo che in Cina ci sia in forme un po' diverse, ma anche lì c'è, quindi sono queste anche delle tematiche che possono interessare al di là delle questioni più strettamente convincenti appunto relative a conflitti e relative a guerre e quant'altro. Ti leggeremo con piacere sia sul foglio che su domani. Comprate domani e domani. Molto bene, Pasquale ti ringrazio ancora, ti saluto. Nicola vuoi dire qualche ultima cosa? No, voglio solo ringraziare Pasquale perché è stato efficacissimo, è passato un'ora così e veramente sono soddisfatto. Grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie a voi e buona sera. Allora ringrazio di nuovo Pasquale, ringrazio chi ha avuto la, come dire, la pazienza e la voglia di approfondire questi temi con noi. Io il video lo carico anche su YouTube, così appunto, come dice Pasquale, lo possiamo ascoltare e vedere anche in un'altra fascia oraria che magari è un po' più comoda per tutti. Buona serata e buona cena a tutti. Grazie. Buona serata. Grazie.